Ciao a tutti ragazzi, sono Erika e questo è il Bye Bye Christmas Book Tag. Sono stata taggata da Jovi di Half Book, che come me è un grandissimo amante del Natale, quindi io, Jovi, ti ringrazio tantissimo per avermi taggato. Sotto nell'info box troverete il link al canale di Jovi, come anche il link ai blog dei due creatori, che ringrazio per aver creato questo tag, veramente molto originale, molto molto carino, e penso che mi diverterò molto a farlo, specialmente perché, come sapete, io adoro i book tag. Ma ora iniziamo subito. Devi smontare l'albero e lo fai a malincuore. Un libro che hai finito, ma di cui vorresti leggere all'infinito. Ovviamente per questa domanda ci sarebbero le risposte banali, come Harry Potter, Percy Jackson, Cuore d'inchiostro anche, perché sono tutte saghe che io amo tantissimo, e mi piacerebbe davvero tanto poter entrare di nuovo nel loro mondo, esplorare magari cose che non sono state raccontate, come per esempio una serie sui malandrini, che leggerei molto volentieri, anzi sarei in prima fila in libreria per prendere il libro, il giorno in cui dovrebbe uscire. Vabbè, sempre parlano di roba ipotetica, adesso mi sto emozionando per una cosa che non esiste, ma vabbè. Ma per cercare di essere un po' originale, ho scelto Salione dei libri di Marcos Zusak. Questo in particolare è il libro in inglese, che io penso sia meraviglioso, perché in italiano è veramente stupendo, nemmeno dei traduttori veramente fantastici, in alcuni casi. Ma in inglese questo libro è spettacolare, ma perché io mi sto perdendo in queste lucubrazioni inutili? Ad ogni modo, il problema di Marcos Zusak è che non ha scritto tantissimo, e io adoro i suoi libri. Gli unici due che ho letto, che sono tra i pochi usciti, sono veramente meravigliosi, perché io adoro tantissimo il modo in cui lui descrive le sue storie, in cui le racconta, in cui crea questi personaggi che sono veramente, veramente relazionabili, che io ho sempre sentito molto vicini al mio cuore, quindi io leggerei sempre libri di Marcos Zusak, che se ne scrivesse almeno uno all'anno, non chiedo tanto, uno all'anno, se è la donna più felice di questo pianeta. Hai scrivato tutti i pacchetti, ma il regalo giusto non è arrivato. Il libro che ti aspettavi di trovare è sotto l'albero. Funny story about that. Io sono una grandissima maniaca del controllo. Vi rendo partecipi di questo fatto, perché ogni volta che giungo un'occasione importante, qual è il mio compleanno o il Natale, io sono solita a rendere noto che cosa vorrei ricevere. Non nel senso che faccio una letterina di Natale, anche se effettivamente non sarebbe un'idea poi così brutta. Potrei fare tanti piccoli disegni, tanti teneri elfi, tipo che ballano intorno ai libri che vorrei ricevere. Ok, e non so perché io stia divagando così tanto in questo video. I'm sorry, let's move on. Comunque il fatto è che io con i miei amici, con la mia famiglia, parlo talmente tanto di libri, incito talmente tanti, che secondo me diventerebbero pazzi a farmi dei regali. Quindi piuttosto che ricevere doppioni o libri di cui non ho mai neanche sentito il nome, perché appunto sono impazzati in libreria e hanno detto le prendiamo il primo che capita e amen, preferisco farglielo sapere. Quindi io sono stata molto fortunata, perché sotto l'albero ho trovato tutti i libri che desideravo, perché appunto la mia famiglia e i miei amici hanno capito i miei messaggi non troppo subliminali. Un libro che però sto docchiando da un po' e che volevo già da tantissimo tempo, ancora prima di Natale, è Six of Crows di B. Bardugo. Io non ho idea di che cosa parli, so solo che lo volevo e lo voglio ancora, infatti sono lì su Amazon tipo Arpia. Tentata di comprarlo, ma non lo farò. Sarò forte. La frenetide delle feste ti ruba gran parte del tempo. Un libro natalizio che ho mai avuto tempo di leggere o di comprare. Mi sarebbe piaciuto tantissimo comprare e leggere la versione illustrata di Harry Potter e la Pietra Filosofale, ma non l'ho comprata e quindi conseguentemente non l'ho letta perché il prezzo mi ha frenato molto. E sinceramente rinunciare ad alcuni libri solo per poter comprare quello che, ok, che è bellissimo e meraviglioso e blablabla, però 40 euro per un libro che ho già letto, nonostante abbia le distruzioni delle E, volevo dire illustrazioni, ho detto tipo costruzioni, ma logic, vabbè. Comunque no, non l'ho letto, non l'ho comprato, non so se lo farò. Lo vorrei tanto, ma il prezzo mi frena un po'. Riponiamo i pastori nella carta velina e smontiamo il presepe, un libro che rilegge ogni anno. Sta cosa dei pastori mi fa ridere perché nel mio presepe i pastori sono quelli che cadono sempre perché noi mettiamo tipo una sottospecie di carta per coprire il mobile in modo tale che non si rovini con le statuine, però questi cavolo di pastori cascano sempre. Quindi ogni volta che passo per andare in bagno, nell'ingresso c'è tipo il pastore svenuto sui re magi ed è una cosa molto divertente, non so neanche perché ve lo stia raccontando. Questo è il video del disagio, come ogni mio video, ma comunque. Oltre a Harry Potter, un libro che rileggo praticamente ogni anno è La fabbrica di cioccolati di Roald Dahl, ormai ve ne sto parlando. Fino allo sfinimento probabilmente sarete dietro al vostro computer con i conati di vomito a dire Erika basta, abbiamo capito, però comunque lo rileggo ogni anno e amen. Esci fuori di casa e trovi un pacchetto a sorpresa, un libro ricevuto senza che te lo aspettassi. Come avevo già detto io sono una grandissima, me neanche nel controllo, quindi tutti i libri che ho ricevuto me li aspettavo, tranne alcuni, alcuni, ammetto, ma quello che proprio non mi aspettavo in alcun modo di ricevere è stato S di JJ Abrams e Duckdors. Mi ricordo che l'altra volta che vi ho fatto vedere questo libro ho letto il nome di Duckdors, che lo sto continuando a leggere sbagliato, è Dougdors, non Duckdors, papera dors, lascia stare. Ad ogni modo, questo è un libro che ho ricevuto senza che me lo aspettassi, un libro che volevo da tantissimo, ma anche qui il prezzo mi fermava, perché comunque, insomma, costa almeno mezz'orene, un rene e mezzo, insomma, comunque costa tanto. But my boyfriend is the best thing on earth e me l'ha regalato. Il mio problema con questo libro è che mi casca continuamente. Ok, ora, far cadere i libri non è questo grandissimo problema, perché alla fine i libri sono forti, possono resistere agli urti, ma questo qui è pieno di inserti all'interno. E quando io ho preso in mano questo libro per girare questo video, chiaramente mi è cascato per terra e tutti i fogli sono andati comunque, quindi sono diventata cretina 40 minuti prima di girare questo video per vedere dove andassero i singoli fogli, perché chiaramente erano tutti per terra, è un casino umane. Comunque, mmmm, Erika e i suoi disagi, prossimamente su Real Time. È lo stomaco pieno di troppi cenoni, mai successo, mi sono come mai pieno, il libro che più ti ha dato la nausea. Ho scelto 172 Hours on the Moon di Jonah, Joha, Joha Harstad, contento lui. Questo è un libro che mi ha dato la nausea, non perché non mi sia piaciuto, anzi mi è piaciuto tantissimo, ma ci sono delle scene che oltre a mettere una grandissima ansia sono veramente nauseanti e io questo libro lo consiglio solo che ha uno stomaco veramente forte perché a me ha dato veramente tanto fastidio. Però è comunque un libro bellissimo e che io consiglio se mi piace la science fiction, se mi piacciono i misteri e le cose anche più che sono terrificanti, veramente molto bello, ma... La neve per volta si scioglie a terra, un libro o una serie che ti piaceva ma che è creata nel corso della sua narrazione. Ho scelto la serie di The Giver di Lois Lowry che per me adesso sarà solo uno stand-alone, ovvero solo The Giver. Perché la serie in sé non è malaccio, è solo che in confronto al primo libro gli ultimi tre sono assolutamente superflui, mi sembrano scritti da tutt'altra persona. Nel senso che il primo libro è molto toccante, molto emozionante, arriva al lettore almeno, è arrivato moltissimo, mentre gli altri tre libri sono completamente inutili. Sei pronto per la palestra? Vabbè, e non mi dà l'ora di perdere qualche chilo. Il prossimo libro è il progettato di leggere. Sinceramente scelgo il prossimo libro da leggere in base a come mi sento quando ho letto l'ultimo. È una cosa un po' particolare, però comunque diciamo che non ho una TBR. Però un libro che mi incusisce tantissimo è Quando eravamo in tre di Aidan Chambers. Più che altro perché non leggo qualcosa di Aidan Chambers da troppo tempo, quindi mi manca e voglio leggerlo, quindi... God bless Aidan Chambers! Compri un nuovo calendario e sei sorpreso. È già arrivato gennaio e con esso la fine delle vacanze. Un libro che ho letto velocemente. Nonostante la sua mole, vi cito Il Lumine di Amy Kaufman e Jay Kristoff, questo è un libro che a me ha cattolato tantissimo. Nonostante la storia inizi in maniera molto banale, poi questo mistero e questa narrazione arrivano ad un picco che assolutamente non mi sarei aspettata. Quindi è un libro che ho assolutamente divorato, nonostante sia veramente molto ben sostanzioso. Molto ben sostanzioso, questo italiano veramente... Comunque il libro è veramente molto bello, è che io ho letto praticamente in due sedute, una seduta e mezzo, comunque avete capito. E infine è il momento di tornare alla vita di sempre e qualche lacrima è scesa. Un libro che ti ha commosso. Devo anche spiegare perché. Oppure potete semplicemente guardarmi mentre abbraccio questo libro per i prossimi 5 minuti. Bene, il video di oggi è finito. Io non taggo nessuno perché ormai Christmas se n'è andato da eh già ormai. Quindi visto che sono in molti di tardo non me la sento di appioppare tutto questo mio disagio ad altre persone. Ma ringrazio ancora Jovi per avermi taggato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!